... Devi ammettere gli scalano dai, dai! ... ... che ancora ce li ha segnati? ... e poi te li ha votati... ... e' che sei un varissotto mica... ... te lo preso... 2 sono 3 per la terza per la terza add no ti prendo ti prendo ti prendo dove vuoi prende e ti porta via ecco quella di lì? si si sono qua oddio vai tu perchè sono rallentato odd 4 zampe primo ok le palle di fuoco però yes presso gali si qui qua c'è questa 2 questo prossimo target via dalla mano questo 2 ok boss occhio alle fulmini e add che telefono brago prima queste 2 brago brago non 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 boss occhio ai fulmini 2 2 2 e add 4 zampe primo facciamoli in fretta occhio alle fiamme occhio alle palle di fuoco ragazzi attenzione, mi fai riprendere, vieni davanti aspetta un'altra no ma ti metti un pallino dopo faccio un perdo si aspetta e il pallino ce la necchi, vieni da un altro attenzione, mi faccio un segnale aspetta che sto un attimo in posizione critica una palla di frontale ok è inquadrato e boss se queste sono due, queste due prendi quella sotto il culo del giro ok state tutti sul boss ok e qui sul boss faccio io qua l'interno ok devo capire sto vedendo ok 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 E' finito Eroes Fate gli altri adesso Difensivi ragazzi Ripro un po' il poli Prima classe raga Marco sei lontanissimo Brago sempre primo ragazzi Ok Radda Vai Oh Non aspettate perché se lo tiro ora muovo E' morto E' morto E' morto E' morto E' morto E' morto E' morto